oggi 25 dicembre festa del santo natale la madonna è apparsa alla vigente maria che ha riferito la madonna oggi è venuta in abito solenne con gesù bambino tra le braccia gesù ha esteso la mano in segno di benedizione e la madonna ha pregato su di noi in lingua aramaica poi ci ha donato il seguente messaggio cari figli vi porto mio figlio affinché colmi i vostri cuori con la pace perché lui è la pace figlioli cercate gesù nel silenzio del vostro cuore affinché rinasca il mondo ha bisogno di gesù perciò figlioli cercatelo attraverso la preghiera perché lui si dona quotidianamente a ciascuno di voi ave maria piena di grazie il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén